Benvenuti in questo video nel quale parleremo in sintesi di apprendimento visibile. Innanzitutto gli obiettivi di questo video. Il primo è conoscere i rudimenti dell'apprendimento visibile e poi capire il concetto di educazione basata sull'evidenza. Per quanto riguarda i contenuti che affronteremo, essi saranno l'apprendimento visibile. Il concetto appunto di effect size, cioè di impatto, misura dell'impatto e poi l'evidence-based learning, vale a dire l'apprendimento basato sulle evidenze. Cominciamo con l'apprendimento visibile. In estrema sintesi vediamo cosa significa apprendimento visibile. Diciamo che in maniera molto rapida potremmo concludere che l'apprendimento visibile è un insieme di strategie che devono rendere trasparente tanto all'insegnante quanto allo studente il suo apprendimento. Quindi, in ultima analisi, l'apprendimento visibile è un percorso che ha l'obiettivo della consapevolezza sia da parte del docente dell'attività che ha svolto, sia da parte dello studente per quanto riguarda l'apprendimento che ha maturato in una determinata fase del suo percorso scolastico. Quindi questa consapevolezza non è soltanto rivolta al mondo degli studenti, ma anche a quello degli insegnanti. Tuttavia, la consapevolezza veramente più importante è quella rivolta agli studenti. Perché? Perché l'apprendimento visibile è orientato a una formazione continua. Noi tutti sappiamo che i contenuti appresi a scuola, entro un certo tempo, tendono a diminuire. Quello che non dovrebbe diminuire, invece, è la consapevolezza delle strategie di apprendimento che abbiamo appreso per raggiungere determinati obiettivi. Quindi l'apprendimento visibile, in un certo senso, mira non al consolidamento dei contenuti, quanto a una vera e propria formazione continua. E quindi potremmo dire che l'obiettivo primario che è alla base di tutta quest'insieme di strategie che costituiscono l'apprendimento visibile è quello di essere docenti di se stessi. Quindi l'apprendimento visibile è un insieme di pratiche, un insieme di strategie che si maturano in aula e grazie alle quali gli insegnanti possono essere massimamente trasparenti con gli studenti in relazione agli obiettivi che insieme si devono raggiungere. Ora, questo non significa che non ci sia una teoria dietro l'apprendimento visibile, ma in un certo senso la teoria riveste un ruolo e riveste un peso minore rispetto a quello che però è la pratica d'aula. Parlando proprio di teoria, potremmo dire che essa naturalmente è comunque alla base dell'apprendimento visibile e il testo che più di tutti ha portato, diciamo, alla conoscenza di tutti noi quello che è l'apprendimento visibile è quello di John Hattie, che in italiano è Apprendimento visibile e insegnamento efficace, edito da Ericsson per la collana Le Guide, che ha proprio per sottotitolo metodi e strategie di successo, in particolare il riferimento a quella che è la ricerca evidence-based. Che cos'è la ricerca evidence-based? Questo termine si è diffuso inizialmente in ambiti diversi da quello del mondo scuola, ma sempre legati al mondo della formazione. Cosa significa un contesto basato sull'evidenza? Diciamo che l'evidence-based education, come ci ricorda Giuliano Vivanet nel suo breve testo per Carocci, che è intitolato appunto che cos'è l'evidence-based education, è in effetti una vera e propria prospettiva di ricerca, molto diffusa nel mondo anglosassone e meno diffusa in Italia, che ha l'obiettivo di raccogliere dei dati, normalmente prodotti in aula, e diffondere quelle che sono delle conoscenze affidabili sull'efficacia di determinate strategie. Quindi, in un certo senso, l'evidence-based education è il risultato della raccolta di dati che provengono da pratiche d'aula. Ora, ci si potrebbe chiedere che differenza ci sia a questo punto tra un'evidenza e un risultato della ricerca, perché sembrano in effetti la stessa cosa. La differenza sta nella prospettiva. L'evidenza parte da una pratica ed eventualmente codifica una teoria. La ricerca in genere fa il contrario, parte da un'ipotesi e poi tende a verificarla. Quindi entrambe hanno una solidità epistemologica, però i punti di partenza sono diversi. Ora, però, non tutto quello che accade in aula è un'evidenza. Bisogna, infatti, non correre il rischio di intendere tutto ciò che avviene in aula come un'evidenza. E l'evidenza, per essere tale, in genere risponde a tre caratteristiche. Deve essere empirica, cioè deve partire dalla pratica d'aula, deve essere in un certo senso trasferibile in contesti anche leggermente diversi da quelli in cui nasce, e poi deve essere inquadrata all'interno di una teoria, altrimenti potrebbe essere anche semplicemente l'esito di una fortunata casualità. Infine, vediamo il concetto di effect size, perché le strategie che si possono adoperare in aula sono veramente tante. Tuttavia, bisogna chiederci quanto funzioni una strategia. Nel testo apprendimento visibile di John Hattie si dice che ogni strategia funziona. Tuttavia, alcune strategie hanno un alto costo in termini di impegno-tempo e un basso risultato. Altre, invece, hanno un alto rendimento, un alto impatto a fronte di costi più o meno alti. Quindi bisogna chiederci quanto funziona una strategia, perché partiamo dal contesto che una strategia è sempre in qualche modo efficace. Ecco, i numeri che provengono da apprendimento visibile, il testo che abbiamo citato, sono numeri di tutto rispetto. Parliamo di 800 meta-analisi, 50.000 pubblicazioni scientifiche che lo sorreggono. Vengono poi selezionati 150 effect size, vale a dire misure di impatto, su una base di quasi 20 anni di ricerca e 240 milioni di studenti. Ora, quali strategie ad alto impatto vengono consigliate? Vengono consigliate quelle strategie che hanno un differenziale computato in un coefficiente di 0,40. Questo significa, cioè, che confrontando un contesto in cui non vengano attuate delle strategie specifiche e un contesto invece omogeneo al precedente nel quale vengano invece inserite delle strategie, beh, le si considerano efficaci se superano un determinato coefficiente, vale a dire se hanno in effetti un margine di convenienza in termini anche didattici. Viene considerato un effect size medio-alto quello che per l'appunto supera il coefficiente di 0,40. Ce ne sono poi alcune con effect size decisamente alto, come per esempio le strategie di feedback istantaneo che hanno un effect size superiore a 1. Conclusioni di questo breve intervento. Abbiamo detto l'apprendimento visibile è un insieme di strategie che hanno l'obiettivo di rendere trasparente al docente e all'alunno il proprio obiettivo di apprendimento. Abbiamo visto cos'è l'apprendimento basato sulle evidenze, vale a dire una raccolta di dati e una documentazione costante che serve soprattutto al docente a scegliere quelle che sono le strategie più efficaci. e proprio per misurare le strategie abbiamo visto il concetto di effect size, vale a dire quella misuratore di impatto che è utile ai docenti per capire quali strategie siano realmente efficaci nella pratica d'aula.